Palla fuori per Stefano Gentile, sei punti della famiglia Gentile, tre di Alessandro, tre di Stefano, che non chiudono la partita, ma la indirizzano decisamente. Il carattere di Alessandro e Stefano Gentile, il carattere però di che è l'intensità, c'è la voglia, c'è quello che spesso per usare un'immagine si dice la faccia giusta. Non è un concetto privo di significato, è un concetto forte per poter combattere e confrontarsi contro gli avversari, ma ci va anche un gruppo che deve avere una identità e questi azzurri stanno mostrando la loro identità. Ed ecco perché si stava toccando il labbro, Taurino subisce questa pallonata, ovviamente assolutamente involontaria, fortuita con il contrasto tra Teodosic e Vitali. E qui è Taurino che va sulla panchina azzurra perché probabilmente gli si è gonfiato un po' il labbro. E qui ripetiamo ancora una volta, ecco proprio, sì ovviamente assolutamente... Però non era una ziaia di gioco, evidentemente c'è stato anche Battipecco tra Teodosic e Vitali su questo pallone, dovevano restituire il pallone agli arbitri, la palla alla fine è arrivata in maniera non proprio piacevole sul volto di Taurino.